La scrittura ci parla di parousia, termine preso in prestito dal mondo contemporaneo di allora e indica la venuta del conquistatore. Ela è presa di possesso da parte di un generale, di un principe di una determinata città. Dal cristianesimo antico fu preso in prestito indicante la venuta di Cristo nel giorno suo, alla fine dei tempi. Gesù infatti tornerà nella gloria, come lui stesso ha promesso, a giudicare i vivi e i morti. Con i santi angeli di Dio egli verrà e instaurerà il suo proprio regno eterno, che non avrà mai fine al compimento dei tempi, ovvero alla risurrezione finale. Risusciteranno dunque gli eletti di tutte le epoche, saranno trasformati i viventi presenti a quell'evento glorioso e la Chiesa tutta, il popolo del Signore, sarà adunato presso il Signore in una festa trionfante per accompagnarlo sulla terra e assistendo ai suoi giudizi inappellabili. Tutto allora giungerà al suo compimento ultimo. Questo evento, predetto molte volte nella Bibbia, sarà potente, unico, glorioso, fisico, visibile all'universo intero. Infatti il Padre ha dato al figliuolo di esercitare il giudizio. L'Apocalisse ci ricorda inoltre che ogni occhio lo vedrà quando suonerà l'ultima tromba e i cieli allora saranno squarciati, gli angeli santi aduneranno gli eletti. Finalmente il disegno di Dio si adempirà in maniera evidente, palese e meravigliosa. Chiesa di Cristo dunque, preparati, il tuo re viene presto. Maranata.